Manavoco da mamma, è questo il titolo della nuova commedia che l'attore e regista Tarantino Emanuele Mastrocinque metterà in scena domani e in replica martedì 17 al teatro della chiesa San Francesco de Geronimo del Rione Tamburi. Mastrocinque, al solito coadiuvato dagli attori della Compagnia Terra Rossa, Mariangela Lippo, Dora Albano, Giovanni Pugliese, Mina Blasi, Valentina De Pasquale ed Elena Coccioli, dà vita ad una farsa dialettale in due atti, uno spaccato di vita comune dove al centro della narrazione abbiamo una famiglia alle prese con i problemi e le manie di tutti i giorni. Manavoco da mamma si sente dire spesso oggi, manavoco, manavoco, però alla fine poi uno va dalla madre e poi diciamo si sta dalla madre, questo invece il personaggio principale che si chiama Silvia questa commedia qua, vede la mamma che dopo cinque minuti ritorna sempre dal marito perché è la parola che ha la piccola Mastrocinque e i genitori vedono arrivare sempre la figlia e arrivano a un certo punto che non ce la fanno di più. Tra questi in contrapposizione c'è una coppia che si vuole sposare. Appuntamento dunque domani e in replica martedì 17, l'ingresso è previsto per le ore 20 e 30, si pari ore 21, il costo del biglietto è di 7 euro, per informazioni 389 02 52 861.